Ciao Lusrignos e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con un'altra flash review in cui voglio parlarvi dei travalo. I travalo sono dei vaporizzatori tascabili per profumo e vengono circa 20 dollari l'uno. Sono perfetti per chiunque voglia avere il proprio profumo in borsa ma soprattutto per chi viaggia spesso in aereo perché grazie ad essi non rischierete di superare il limite consentito per i liquidi e soprattutto risolvono il problema del portarsi in giro le boccette di vetro che sono molto fragili. Il packaging è semplice e pulito ma è disponibile in 10 colori diversi e questo è molto utile nel caso si volessero portare con sé profumi diversi per distinguerli. La versione classic come quella che ho io contiene profumo per circa 60-65 spruzzi. Riempirlo è facilissimo, dovete semplicemente scegliere il vostro profumo e togliere il capucetto dello spray in maniera che rischia solo la punta del tubetto di plastica. Dopodiché dovete infilare questo tubetto nella guarnizione sul fondo del travalo e poi premere il travalo più volte verso il basso come per spruzzare il profumo. Grazie alla finestrella trasparente sul davanti potete vedere a che punto è liquido e quando il travalo è pieno. Il travalo esiste anche nelle versioni rollerball o pure, cioè trasparenti. Naturalmente non mi resta che promuoverlo a pieni voti con un bel 9 e vi consiglio di procurarvi uno e portarvi in vacanza i vostri profumi preferiti. Se questo video vi è stato utile spolliciate e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime review e ditemi nei commenti quali altri prodotti dovrei recensire secondo voi. Non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram, Facebook e Twitter per non perdervi nessun video e ricordatevi di partecipare al giveaway sul mio canale. Io vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!